Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Il Natale da record planetario a Palazzo Buonaccorsi, concerto dei Pueri Cantores, i tanti appuntamenti a macerata e ve ne daremo conto. E poi ancora gli appalti, gli imprenditori fanno scena muta dal giudice, donne nel mirino, non rispetta i divieti e torna in azione, stalker arrestato e poi la passione. Un addio di fuoco fa bruciare l'auto alla giovane amante. Niente antigelo e alzanzio non si decolla, è successo ieri. E poi lo sport, la carica di Cester, una lube cresciuta a Verona per volare. Prima pagina del resto del Carlino Macerata, la strada del silenzio, inchiesta sugli appalti truccati, interrogatori di garanzia, gli imprenditori scelgono di non rispondere al GIP. Sanità, rianimazione sarà ristrutturata, il 118 avrà una nuova palazzina, budget da 9 milioni per l'area Vasta 3. Ecco i lavori all'ospedale di Macerata, gli obiettivi per il 2018, incrementare il personale, ridurre il precariato. A Civitanova, in città la nipote di Mussolini, tensione, biblioteca blindata, stasera la presentazione del libro di Ed Negri. E poi verso le feste, l'albero in piazza, Macerata, ecco il Natale low cost con oltre 100 iniziative. L'attore da Tolentino a Unicam, Elio Germano, tra i ragazzi e poi vota maceratese dell'anno, sfida a suon di Tagliandi, l'iniziativa del resto del Carlino. Andiamo avanti, iniziamo subito con Macerata a primo piano che appunto mostra i tanti eventi previsti per questo mese, per il Natale a Macerata. E qui la festa, dai mercatini al planetario, oltre 100 appuntamenti con il Natale low cost, il debutto oggi in centro storico Villa Potenza, 103 gli appuntamenti previsti per il periodo delle feste in città nelle frazioni, 45 soggetti coinvolti nell'organizzazione, tra cui 34 associazioni, 29 le location utilizzate per gli appuntamenti, 10 delle quali all'aperto. E poi ovviamente il grande albero, simbolo del Natale che naturalmente si sta addobbando in Piazza della Libertà. Tanti eventi, dicevamo, teatri fanno il pieno tra spettacoli e concerti, si parte oggi a Don Bosco e poi a Vento è partito anche il calendario in Piazza Mazzini, domani arriva anche la tombola e poi l'arte, la mostra dei tesori salvati dal sisma al buon accorso, iniziative anche a Palazzo Ricci. Andiamo ai lavori, al vecchio circolo Garibaldino, la chiesa abbandonata, prove di rinascita per l'ex giardinetto, ristorante pub tra i progetti. Siamo in Vicolo Monachesi, che è appunto chiuso su due lati, che definiscono i confini del cantiere, a breve la gru sarà rimossa e il vicolo sarà riaperto, potrei farne un ristorante o anche un pub, sottolinea l'ingegnere Giovanni Guatini, il proprietario dell'area. Panorama sanità, rianimazione cambia volto, nuova palazzina per il 118, siamo a pagina 5 del resto del Carlino Macerata, budget da 9 milioni per l'area vasta, i lavori in ospedale, dunque budget, investimenti in crescita, in incremento del personale, drastica riduzione del precariato, tanti interventi in attesa della realizzazione dell'ospedale unico, su cui tutti si sono detti d'accordo, a prescindere dal sito individuato. Ecco, sono queste le linee direttrici per la sanità margeratese, emerse nella recente riunione del consiglio di direzione dell'area vasta 3, allargata ai responsabili di tutti i dipartimenti, un summit di rilievo che programma l'intero 2018, partendo dai risultati conseguiti quest'anno. Il direttore Alessandro Maccioni ha sottolineato come negli ultimi anni il budget assegnato e gli investimenti effettuati siano costantemente in crescita. Il numero tra i vari degli dipendenti, il personale passerà da 3.433 a 3.566, tra medici e infermieri precari saranno ridotti da 113 a 42. L'iniziativa San Giorgio, la Messa è in latino, facciamo rivivere la tradizione, il sagerdote dalle spalle ai fedeli, l'antico rito celebrato da Don Leonesi. Ne abbiamo parlato nel corso della settimana con interviste e naturalmente per questo vi ricordiamo il nostro sito radionuova.com dove troverete notizie ma anche ovviamente le nostre registrazioni, le nostre interviste e quant'altro. Andiamo nella pagina della provincia, gli indagati fanno scena muta, appalti truccati, solo falsità, l'inchiesta, le accuse turbativa d'asta e corruzione, Resparambia, Stramazzotti e Maccari davanti al giudice, dunque accusato di aver corrotto un finanziere di associazione per delinquere, finalizzata la turbativa d'asta, l'imprenditore dire Muccese, Giulio Resparambia punta a chiudere tutto con un patteggiamento, intanto ieri ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari, Domenico Potetti, dopo l'applicazione della misura di divieto di esercitare l'attività di imprenditore. Comunque, già da sei mesi, ha spiegato poi l'avvocato Paolo Gemelli di Roma, Resparambia si è dimesso da tutti gli incarichi nella sua società La Progeco. L'impresa va avanti con i figli e i nipoti, mentre lui può avere la serenità di difendersi in questa vicenda. Naturalmente questo tema lo approfondiremo anche in seguito. La cronaca a Monte San Giusto, un anno di aggressione e minacce, un anno per farla franca e tornare con lui, stalking alla compagna, arrestato un artigiano, dunque dopo un anno di persecuzione è finito in carcere un artigiano, 38enne, di Monte San Giusto. A Colmurano il parroco rientra e sorprende i ladri, spariti gli spicci delle offerte all'interno della casa parrocchiale di Colmurano. Divieti dimezzati dopo le proteste. Facciamo riferimento ai residenti di via Salimbenia, San Severino. Orlandani replica ai residenti e dice capisco il disagio dei residenti, ma purtroppo si tratta di cause di forza maggiore. Il consigliere delegato alla viabilità di San Severino, Jacopo Orlandani, risponde ai residenti di via Salimbeni dopo il provvedimento provvisorio che prevede il divieto di sosta per mezz'ora sia al mattino che al pomeriggio. L'inizuale decisione servirebbe per permettere al mezzo del centro di urno il girasole per il trasporto di portatori di handicap di effettuare le manovre nella via. Parliamo sempre di strade, ma ci spostiamo a Camerino e l'entità naturalmente del problema è ben altra. Dalla provincia 17 milioni e l'ANAS interviene a Macereto, lavori sul collegamento per Castelluccio-Pettinari, operazione strategica. Sulle strade danneggiate dal terremoto la provincia annuncia lavori per oltre 17 milioni e un altro milione arriva anche dall'ANAS per un tratto della provinciale di Macereto. Le conferenze dei servizi mercoledì in provincia hanno esaminato i progetti per la sistemazione e il ripristino di quattro strade provinciali nell'entroterra. A Civitanova, droga, alcol e gioco d'azzardo, in 700 hanno chiesto aiuto di dipendenze patologiche, Ciarapica in visita al servizio. Incontro al servizio di dipendenze patologiche dove il sindaco Fabrizio Ciarapica si è recato per conoscere il personale della struttura e parlare con Mario De Rosa, direttore del servizio. Il servizio ha registrato, il servizio di Civitanova, nel 2017. Ad oggi circa 700 accessi, tra questi 456 persone risultano essere dipendenti da sostanze stupefacenti, 130 alcolisti, 28 dipendenti da gioco d'azzardo, 40 tabagisti e 40 persone accolte poi nella comunità. Andiamo avanti, passiamo alla questione della foto sui social network. non è una prova di furti, assolto, facciamo riferimento appunto a un caso. Per una serie di furti era finito sotto processo quando aveva 17 anni, ma in tribunale ha dimostrato la sua innocenza. Si tratta del Civitanovese Aureliano Agordati. Nel giugno del 2014 vennero commessi una serie di furti, usando anche delle auto per sfondare vetrine. Dopo le indagini venne accusato un ragazzo, moltativo sul fronte dei reati, dato che sui social c'erano delle foto di quest'ultimo con Agordati, si era pensato che i due fossero insieme da quel processo davanti al tribunale. La nuova risonanza magnetica afferma dal 2014 sanità e radiologia. Siamo sempre a Civitanova, l'ex primario Galassi. Le incompetenze sono a livello regionale. Leggo sui giornali la polemica sull'ospedale unico, se realizzarlo o no. Il problema non è questo, ma che la sanità soffra l'inadeguatezza degli organi tecnici regionali e se ne paghino le conseguenze. Jacuzzi di Antonio Galassi. Passiamo oltre e andiamo a Recanati. Il colle torna ai tempi di Leopardi. Il progetto, partiti da voli sui piloni, qualche disagio al traffico, il sindaco tranquillizza, sarà recuperata la vecchia visuale. Dunque tutti esperti di botanica, così esordisce l'articolo, in queste ore a Recanati dove le ruspe e le seghe hanno fatto terra bruciata sul colle dell'infinito. Scappa di casa con la figlia, il giudice l'assolve, sentenze, inferno domestico, botte e cinghiate da marito e nonni. Era stata accusata di aver abbandonato il marito, portandosi via la loro bambina, ma in tribunale ha dimostrato che inferno terribile stessero vivendo. Lei era piccola, maltrattate e picchiate con feroce. I fatti sarebbero successi sei anni fa. Passiamo ora alla sentenza. Rapina e associazioni per delinquere. Cicciu non era nella banda. Colpi nel 2013 a un giovane a un supermercato assolto. Quindi a 17 anni si era trovato accusato di associazione per delinquere, ma davanti al tribunale è riuscito a dimostrare la sua assoluta innocenza. Si tratta da Antonio Santo Pio Cicciu, oggi 21enne. I fatti naturalmente erano avvenuti tra il settembre e l'ottobre 2013. 8.43 passiamo ora al Corriere Adriatico che appunto nel primo piano Macerata tiene conto dei tanti eventi. Sono 103 nello specifico gli eventi nel segno dell'accoglienza. Diverse decine di associazioni coinvolte. Le luminarie dovrebbero accendersi già da oggi. Per chi è di Macerata già visto per le strade, ovviamente, le luminarie già poste. L'assessore Monteverde si concede una frecciata anconetana. Noi non facciamo ruote. Di qui, naturalmente, si fa riferimento alla ruota panoramica che è stata installata al porto di Ancona. Tradizionale concerto del 25 dicembre a sacro cuore con i pueri cantores. Al buona corsi una mostra sul 500 con le opere salvate dal sisma. Primari e servizi. La rush finale. Siamo a pagina 5 del Corriere Adriatico. Serie di mosse firmate a Asur. Entro l'anno i primari di urologia e medicina nucleare avanzano i lavori in diversi ospedali. A giorni, anche, la nomina di Pelagalli alla guida del reparto di Ostri e Ostetricia di Macerata. Appalti, scena muta degli indagati. Maccari, siamo persone corrette. Nessuna risposta data al giudice. Poche battute con gli avvocati all'esterno del tribunale. Ricordiamo in breve la vicenda. Appalti pubblici per oltre 26 milioni di euro aggiudicati illecisamente. I tre imprenditori fanno scena muta davanti al GIP o fuori dal tribunale, però rivendicano il loro buon operato. Siamo persone corrette. Non c'era nessun sistema di appalti. Li abbiamo sempre presi regolarmente. Di chi si tratta? Si tratta degli imprenditori Giulio Resparambia, Giancarlo Maccari ed Enzo Stramazzotti. Comparsi, come dicevamo, davanti al GIP Domenico Potetti per l'interrogatorio di garanzia. Fa bruciare l'auto all'ex, condannata a 21 mesi, una iesina, molestie dopo l'addio dell'amante giovane il rogo davanti a un'azienda di cingoli. Nei guai finisce anche un re canatese. Dopo la fine di una relazione col compagno di quasi 30 anni più giovane, aveva iniziato a perseguitarlo fino a fargli incendiare l'auto. È stata condannata a un anno e nove mesi di reclusione, una 63enne di iesi. Andiamo avanti, l'Aerdorica, punta est ma la prima gelata. Gli aerei si bloccano, manca il liquido anti-ghiacci, il volo per Monaco tarda tre ore l'amarezza dei passeggeri. Abbiamo perso le coincidenze, una vicenda surreale. L'assessore Pieroni, peraltro in missione a Mosca, dice la regione vara un piano per i turisti lituani. Andiamo al crack Banca Marche, Bianconi, non decidevo da solo i finanziamenti di Banca Marche. L'ex direttore generale parla per la prima volta in tribunale dopo il crack da 920 milioni dell'istituto di credito. Non ero il dominus dei finanziamenti in Banca Marche, lo dice appunto l'ex dg dell'istituto di credito, chiamato in causa per il crack, lo ricordiamo, da 920 milioni di euro di conto in rosso. È passato poi al contrattacco ieri in aula davanti ai giudici del tribunale di Ancona. Denzel fiuta la cocaina, nell'auto era nascosto oltre un chilo di neve, il rinvenimento a Porto San Giorgio, la finanza arresta sessantenne al casello della 14, il parento di droga individuato dal pastore tedesco nel portabagagli. Monte San Giusto fa stalking all'ex ragazza, il giudice ordina l'arresto. In carcere un 38enne che non ha rispettato il divieto di avvicinamento. La donna aveva denunciato gli episodi ai carabinieri di Monte San Giusto. Tante iniziative per Natale a Tolentino, ne daremo conto anche in Marche Infinita Cultura, il castello incantato all'arancia prende il via la magia del Natale, nello storico maniero ci sarà la casa di Santa Claus, torna il calendario sociale. Bagarre kafkian sull'obitorio ammatelica messi campanelli per le salme. L'osservazione dei cadaveri al centro di un contenzioso tra comune e A sur la camera mortuaria è agibile ma resta bloccata per una vicenda appunto surreale. Era pronta di fatto la camera mortuaria per essere restituita alla cittadinanza dopo gli eventi sismici. Diversi cavigli burocratici hanno bloccato l'iter di riapertura. Ancora oggi la cittadinanza non può usufruire del servizio. Le donne vittime di violenza quarantenni sposate e istruite. L'avvocato Eleonor Atizi spesso sono azioni psicologiche ed economiche. Oggi le donne subiscono maggiormente un tipo di violenza subdola psicologica. La definirei economica. Rivelarlo è l'avvocato Eleonor Atizi dello sportello in forma donna gestito dall'associazione Praxis. Il 70% delle donne che si presentano allo sportello nei locali del comune di Civitanova sono quarantenni sposate con o senza figli mediamente istruite. Lamentano tutti il medesimo disagio che consiste nel subire umiliazioni dal proprio partner per aver perso il lavoro o per non averne avuto uno. Il libro sulla moglie di Mussolini, centro blindato, cortei e proteste, presentazione alla biblioteca comunale di Civitanova, previsto un corteo di ampi antifascisti. Alle iniziative saranno presenti gli assessori Gabellieri e Cognini, assente il sindaco, una manifestazione che sicuramente sta facendo già parlare e ovviamente la troveremo, immagino, anche nei giornali dei prossimi giorni. Ma certo è che un problema ben presente, di cui abbiamo dato conto anche nei giorni scorsi, è quello delle dipendenze a Civitanova. I numeri sciocchi in cui ci sono 260 persone. I dati del CERT sono stati presentati dal direttore De Rosa al sindaco Cerapi, che ne abbiamo parlato anche dal resto del Carlino. A Recanati, la tomba di Gigli, recupero completato a marzo 2018, il restauratore Simone Settembri, opere frenate dai danni alle pitture. A Porto Recanati, AUS, allarme firmato Tomasino, i balconi sono pieni di amianto. L'amministratore apre un nuovo pericoloso fronte sul conto del palazzone multietnico, quindi una quantità industriale di amianto sui parapetti dei balconi dell'hotel AUS. Una stima effettuata dall'amministratore giudiziario del condominio Gianluca, Tomasino, che parla di oltre 5 chilometri di materiale che potrebbe essere nocivo. A Osimo e Filodoro c'è la nuova sede, la presidente della Camera Laura Boldrini ha tagliato il nastro del centro che ospiterà uffici e servizi, il costo di 30 milioni in gran parte coperto da donazioni. Lo sport è brevemente, l'Ube è ok ma non è finita, parliamo di pallavoli, il centrale Cester è sicuro che il percorso di crescita dei campioni d'Italia ha appena iniziato. A dicembre tanti impegni importanti ma per adesso pensiamo solo alla partita di Verona, l'intervista sul Corriere Adriatico. I quotidiani online, iniziamo da cronache maceratesi, titoli, appaltopoli, parlano gli imprenditori, non c'è nessun sistema, tanti attestati dai colleghi, tutti e tre si sono avvalsi dalla facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza davanti al GIP. Condannata per stalking a fuoco l'auto dell'ex a Cingoli, un anno e nove mesi per una 63enne. D'Alema a Civitanova il PD perde perché ha rotto con il popolo della sinistra. Al bar Ternana l'ex presidente del Consiglio ha presentato il movimento articolo 1 MDP. Obbligazioni ad alto rischio ai clienti, ex direttore di Banca Etruria finisce sotto accusa per truffa. Una coppia di commercianti di Treglie, la madre di lei, hanno perso 135.000 euro. Andiamo avanti e passiamo ora a Picchio News, le altre notizie. Pacchetto Sisma, Rottamazione Bis, Scuola Bollette, il DL Fisco e Leggi, il commento dei onorevoli Carescia e Manzi, sempre sulla questione ovviamente del decreto legge che peraltro ha anche definito Salva Peppina. Andiamo ora alle 8.50, le previsioni del tempo per oggi, sabato 2 dicembre, cielo coperto associato a precipitazioni diffuse, neve al di sopra degli 800 metri, venti moderati dai quadranti orientali, temperature medie stazionarie sui livelli sinora raggiunti, mare mosso. Ora le previsioni per domenica, cielo coperto con probabili precipitazioni piovose e nevose al di sopra dei 700 metri sul settore meridionale della regione, ma in graduale attenuazione nel corso della giornata. I venti saranno moderati settentrionali, temperature senza variazioni di rilievo, mare molto mosso. Con le previsioni noi chiudiamo questo primo appuntamento informativo molto rapido, del resto come sempre facciamo, e vi diamo appuntamento agli approfondimenti alle ore 10. In studio troverete Roberta Foresi. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento.